L'ambasciatore è qui a Bruxelles, nell'ambasciata, una casa aperta all'Italia che è stata l'occasione anche per un incontro, un incontro con il presidente Vendola, ma non soltanto per aiutare la crescita, aiutare i contatti. Sì, direi che da che sono arrivato questa casa è stata più volte aperta e intendiamo farlo sempre di più proprio per collaborare con il sistema Italia, collaborare con l'Italia. In questo caso in particolare è stato anche un grande piacere, un grande piacere perché la presentazione di un evento di questo genere è un enorme sfida, è un enorme successo per la Puglia, ma direi che è un grande successo anche per l'Italia. I nuovi materiali sono la sfida del futuro e il Made in Italy deve avere non soltanto il brand del lusso e della bellezza, ma anche il brand dell'innovazione tecnologica e dell'efficienza. Direi che questa presentazione qui a Bruxelles, a parte il piacere che ha fatto a me di poterla fare in questa casa, cade bene perché si indirizza a tutta una serie di settori che vedono nel Belgio, anche a parte la Commissione, un partner ideale. Si è parlato di biotecnologie, si è parlato di aerospazio, si è parlato di tutta una serie di tecnologie di punta e, guarda caso, gran parte del nostro export, del nostro interscambio e gran parte del nostro export è proprio dedicato a questo tipo di settori. Non è un caso che quest'anno il nostro export, soprattutto in biotecnologie farmaceutiche, è aumentato del 15%.